Buonasera, stasera mi è venuto il flash e voglio affrontare l'argomento destino, nodi focali e libero arbitrio Per quanto sempre riguarda la mia opinione, il mio modo di credere nelle cose e diciamo come io vivo e conosco queste argomentazioni Tutto in base alle energie universali, quindi nulla a che vedere con niente di religioso Allora, destino per destino si intende ciò che la nostra anima in una determinata vita terrena Deve obbligatoriamente portare a termine, deve passare, deve fare determinate esperienze Che fanno parte del destino globale di quell'anima in quella incarnazione, in quella reincarnazione Quando si dice che tanto è tutto destino, è uguale a quando si dice che tanto il destino non esiste e ce lo facciamo noi Questo perché? Perché sono vere entrambe E sono entrambe fasulle Allora, il discorso sta più che nella via di mezzo Il destino non come lo si intende a livello diciamo di pensiero umano E nemmeno però come si intende a livello diciamo religioso Il destino non è tutto scritto Ma al contempo non è tutto vuoto, tutto in bianco Gli unici due punti focali, gli unici due punti stabiliti Che non si possono in nessun modo cambiare Sono la data, l'ora e il giorno della morte E la data, l'ora e il minuto esatto e il secondo della nascita Ora, sulla prima, cioè sulla morte Scusate Sulla morte c'è poi da fare un discorso a parte Sulla vita sicuramente, sulla nascita Non ci sono possibilità di scappatoie Tra l'altro il nodo focale della nascita risulta essere focale per noi Cioè per chi nasce Ma non è detto che lo sia per il genitore che lo mette al mondo Cerco di spiegarmi ma non è semplice Allora Leggenda narra che I destini di tutte le anime Siano scritti e segnati Sui registri akashici Sui registri akashici però Non è che ci è segnato Il 29 gennaio 1975 Nasce a Sveva Dopo un minuto fa il primo vagito Dopo tre minuti stava già mangiando Dopo quattro ore rompeva già le scatole E per il resto della sua vita ha rotto le scatole Morendo all'età di E facendo questo, questo Oggi è starnutito Domani gli è rimasto il mangiare bloccato Dopodomani Non è così Non è il romanzo Il registro akashico Non è il romanzo Di tutta l'esistenza animica Di ogni singola persona Anche perché altrimenti Gli scrittori come Guilamo Passan Edgar Allan Poe Dante Alighieri Sarebbero stati direttamente assunti A tempo indeterminato E anche senza possibilità di ferie Nell'akash Per poter scrivere Tutta sta roba Il destino Ha dei punti Focali Che in ogni reincarnazione Siamo obbligati A vivere Delle esperienze Diverse per ognuno di noi Quindi inutile stare a chiedere Che esperienze Perché io ne ho alcune Tu ne hai altre Un altro ne hai altre ancora Quindi diverse da ognuno di noi Ma Ha delle esperienze Che è obbligato A fare in quella vita E non c'è modo di scapparne Ma il resto E la strada Che ci porta Curva dopo curva Che non sto dicendo una parola Scena albanese Ma parlo delle curve della strada In italiano Ci porta A questi Punti A questi nodi Focali A queste A queste tappe La scegliamo noi E lì subentra Il libero arbitrio Allora Cerchiamo di fare Qualche esempio Innanzitutto Come dicevo prima I nodi Focali Non sono uguali Per tutti Non è che tutte le anime Debbano fare Quel percorso In quella vita Ognuno C'è il suo Di conseguenza Per me Potrebbe essere stato Un nodo focale L'avere Mio figlio A 33 anni Per un altro I figli Non sono nodi focali Quindi ne ha potuti avere 3, 4, 10 2, 2 Nessuno Ma non erano contemplati Nelle esperienze Che doveva fare In quella vita Quindi che li avessi O che non li avesse Era libero arbitrio Non gliene fregava niente A nessuno All'universo Per primo Difficile accorgersi Di quali siano I nodi focali Molto difficile Bisogna avere un grande acume Essere molto attenti E soprattutto Guardare sempre La propria vita In modo Oggettivo E non Soggettivo Cosa che All'essere umano Terrestre Riesce Difficilissima Anche perché Mi rendo conto Anche quando leggo Certi commenti Su altre questioni Che spesso Le persone Tendono a rispondere In base Alla loro Esperienza personale Ma rispondere In base Alla tua esperienza Personale Su un fatto Magari di vita Di tutti i giorni Non è Essere oggettivi Quando qualcuno Scrive Che ha problemi Con la suocera Porto un esempio Stupido a caso Quello che ha problemi Con la suocera Consiglierà le cose A favore Della nuora O del genere Quello che invece È La suocera Consiglierà Magari O dirà Che la colpa Spesso Può essere Della nuora O del genere O ancora Una persona Che non ha Una nuora O un genere Ma magari Lo vorrebbe Consiglierà Più pace Più armonia Perché a lei Manca Con la presenza Con la figura E via dicendo Ma questo Non è vedere La cosa In maniera Oggettiva La maniera Oggettiva Di vedere Le cose È tirarsi Fuori Dalla situazione E valutarla Punto per punto A prescindere Dalle nostre Esperienze Personali Chiusa Parentesi Tornando Ai nodi Dicevo I nodi Non possono essere evitati In nessun modo Se io in questa vita Dovevo avere un figlio Dovevo avere Una malattia Dovevo perdere Tutti i soldi O mi dovevano Mazzuolare di botte Una sera Per una rapina O vatte la pesca Qualunque altra cosa Quella cosa Succederà A prescindere Dalle mie scelte Io poi Posso scegliere Però come arrivarci Se nel mio destino C'è scritto Che io Devo avere un figlio Io posso averlo A 20 anni Posso averlo A 30 Posso averlo Perché l'ho cercato Posso averlo Perché ci rimango Posso averlo Perché alla fine È disperato L'universo Non sapendo più Come fare Perché io Non ne voglio In realtà Mi fa stuprare Da qualcuno Come avvenga Quel figlio Ha da fare Sa da fare All'Alessandro Manzoni E quindi Ci sarà Non è di vostra Libera scelta Ripeto Sto facendo un esempio Non tutti i figli Sono nodi focali Ci sono figli A cui dell'universo Non gliene frega La mazza Se li fate o no Dicevo Queste tappe Sono obbligatorie Come arrivarci A queste tappe È libero Al vitrio Ci accorgiamo Che sono Delle tappe Quando La situazione In un determinato Modo Ci si ripresenta Più di una volta Esempio Proprio Un esempio Stupido Oggi mi metto I tacchi E mi rompo Una caviglia Potrebbe essere Un caso Potrebbe essere Che il rompere Il dover imparare A camminare Sui tacchi Sia un mio nodo Focale Allora cosa succede Mi rompo la caviglia Mi metto il gesso Finisco all'ospedale Passano mesi La caviglia mi guarisce Passano 2-3 anni Mi invitano a ballare E io decido Di nuovo Di provare A mettermi i tacchi E per la seconda volta Mi spacco la caviglia Finché Non imparerò A portare Quei cavolo Di tacchi La caviglia Continuerà a rompersi Alla seconda Alla terza volta Che vedo Che non riesco Se ho A come Conosco l'argomento E so Di queste Diciamo Metodiche Universali Automaticamente Inizierò a pensare Che l'imparare A portare Quei tacchi Sia in realtà Un mio nodo focale E lì potrò Concentrare Le mie energie Per imparare Finalmente A farlo E andare avanti Nel mio percorso Altrimenti Rimarrò stagnata Lì Rimanere stagnato Lì Significa Passare Tutta questa esistenza A tentare Di superare Questo nodo focale Fino ad arrivare All'età Nella quale È scritto Che me ne devo Ghire Che me ne devo andare E alla prossima E alla prossima Reincarnazione Ricomincerò Da lì Che sia Una nuova Reincarnazione Quindi una nuova vita Differente O che sia Un loop Temporale Perché poi Questo dipenderà Anche dal tipo Di situazione Che io devo Sbloccare Nel mio nodo focale Un loop Significa Che tornerò Nuovamente In una dimensione Dove ricomincerò Da capo Questa stessa Identica vita Che sia l'una Che sia l'altra Io dovrò Superare Quella prova E finché Non la supererò Rimarrò Bloccata A quel livello Ora Io ho fatto L'esempio Del tacco Ma può essere Il fidanzato E il marito Che è Vemena Vemena il primo Vemena il secondo Vemena il terzo O siete proprio Stronzi voi O quello È un nodo focale E magari Il primo L'avete risolta Scappando Il secondo L'avete risolta Scappando E il terzo Lo dovete risolvere O denunciando O spaccando Di una padella In fronte Cambiamo metodo Questo È il saltello Dei nodi focali Che noi Ci siamo prefissati Al momento Della reincarnazione Di una data vita Finché non li portiamo Tutti a termine Le reincarnazioni Diciamo Successive Non verranno più Decise E scelte Da noi Una volta Nell'oltre Ma Verranno Riproposte A random Dall'universo Stesso Questo Fin quando Appunto Tutte le tappe Di quella Esistenza Primaria Non sono state Eseguite Nel momento In cui avremo Superato Tutte quelle tappe La nostra Anima Una volta Tornata Nuovamente Nell'oltre Sceglierà Il suo Nuovo Percorso E ricomincerà Con una nascita Delle tappe E A proseguire Diciamo che sono Le missioni Dell'anima Chiamiamole così Mi piace la parola Missione Dell'anima E Il discorso Del punto Della morte Questo È più Difficile Da spiegare E Anche Tra virgolette Un po' Da capire Nel senso Che Una morte La morte È un punto Focale Della nostra Anima Non si Può Evitare Se è scritto Che quel giorno Quell'ora E quel minuto Succederà Ma Per libero Arbitrio Si può Anticipare In poche parole Se io Decido di morire Posso Scegliere Di farlo Nessuno Mi blocca Non gliene frega Ancavola Nessuno Problema mio Che poi devo Ricominciare Tutto la capo Nell'altra vita Ma l'universo Mi guarda Negli occhietti E mi dice Cocci tua Ma non posso Chiedere E scegliere Che venga Allungata Ma nel momento In cui io Sono nato Poco prima Che io Nascessi In questa vita Sapevo già Quando sarei nato E quando Sarei morto E ho accettato Io Questa condizione Quindi Ripeto Suicidio 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 a parte Che è una scelta Invece Poi dettata Direttamente Dall'esistenza Una volta Che siamo Materiali Ma se si arriva Dalla nascita Alla morte Per filo diretta Per filo diretto E per Susseguirsi Degli eventi Dell'esistenza Stessa Allora A quel punto lì Non si potrà In nessun modo Allungarne Allungarne La data Questo non verrà mai Accettato Né dall'universo Né dalle vostre Richieste Né da nient'altro Se una persona Si salva In una In una situazione Di pericolo Mortale Significa Semplicemente Che non era quella La sua ora E il suo momento Non significa Che è accaduto Un miracolo Detto questo Una volta Che noi appunto Arriviamo Al nostro punto Di non ritorno In quella esistenza E quindi moriamo Andiamo Nuovamente Nell'oltre E Decideremo Quando Quando Nell'oltre È un eufemismo Perché il tempo Non esiste Ma siamo comunque Noi a decidere Di ritornare O di aspettare Prima del ritorno Questo significa Che Io posso Reincarnarmi Dopo dieci anni Che ero morta Nella precedente vita Oppure posso decidere Di reincarnarmi Il tempo Lo valuto In base alla dimensione Materiale Quindi terza dimensione Nostra Non in base Alla quarta Oppure posso decidere Di reincarnarmi Duemila anni dopo O mille anni prima Perché le reincarnazioni Non hanno Una linea temporale I nodi I nodi invece Hanno un continuum Quindi i nodi Vanno Sciolti In ordine Non si può Sciogliere L'ultimo nodo Passare al penultimo Poi fare il primo Poi fare quello di mezzo Hanno un loro ordine Preciso Una loro scaletta Quindi la differenza Tra i nodi Del destino O nodi Focali Non confondeteli Con i nodi Karmici Che sono tutt'altra cosa E dicevo Tra i nodi Focali Del destino E il libero Arbitrio È sostanzialmente Questa Come differenza In genere Anche Per le correnti Filosofiche Religiose Che seguono Il discorso Reincarnazione Non è Vero Che se mi comporto male Mi reincarno In un maiale E se mi comporto bene Mi reincarno In un ricco All'universo Lo dico sempre Ma lo dirò in eterno Non gliene fotta Assolutamente Una cippa Di come vi comportate A lui interessa Che superiate le tappe Poi come le superate Le superate Non gliene può fregare De meno Quindi Che le superate Facendo I santoni O che le superate Facendo il nazista O Anche che vi suicidiate Perché Avevate pensato Di riuscire In quella vita E invece poi È stata troppo pesante Per voi Troppo complicate E avete deciso Di arrendervi Prima del tempo E quindi Di gettare La spugna Sul ring All'universo Frega niente Si torna tutti Sempre nello stesso posto E si ricomincia Tutti da capo In ugual maniera Spero di aver chiarito Il mio pensiero Sul Appunto Destino In senso lato Sui nodi Focali Del destino stesso E Appunto Sul libero arbitrio Che noi abbiamo Sia come esseri Viventi E sia come anime In sé Non mi soggiunge Nessun'altra postilla Da Aggiungere Ho Ho raggiunto Il traguardo Solito Giusto per rimanere In tema Dei 20 minuti Vi do la buonanotte Io torno In compagnia Di miss e smoke Perché stasera Una miss Era poco E mi ce ne vuole un'altra E Ci sentiamo domani Per il prossimo video Buonanotte